Una buona serata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart. In studio Nicola Giannattasio sulla FIPL. Per incidente tratto chiuso tra Santa Croce e San Mignato con 6 km di coda tra Montopoli e San Mignato in direzione Firenze. Per lavori 3 km di coda in direzione mare tra Ginestra e Montelupo. Chiuso lo svincolo di Montelupo-Fiorentino in entrata in entrambe le direzioni e in uscita in direzione mare. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso code a tratti tra Firenze Nord e Aglio. Vietato il transito ai mezzi pesanti tra Barberino e Aglio. In direzione Roma code in uscita a Firenze Sud. Sulla A11 per traffico intenso code in direzione Pisa tra Firenze Ovest e Prato Est. Moversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!